Perché dobbiamo completare la vaccinazione della popolazione studentesca? Per evitare di tornare di nuovo alla didattica a distanza. E per riuscire finalmente quest'anno, questa deve essere una priorità per tutti noi, a mandare a scuola in presenza le ragazze e i ragazzi. Ma è evidente che se non si raggiunge un'immunità di gregge, ci sarà di nuovo la necessità della didattica a distanza. Dipende solo da noi e dal nostro senso di responsabilità a riuscire ad avere l'immunizzazione per lo meno del 70% della popolazione studentesca. Il mio appello è a completare la vaccinazione sotto i 18 anni. Utilizziamo queste giornate a luglio, utilizziamo l'ultima settimana di agosto, poi vedremo ad agosto quando far cominciare l'anno scolastico, in base al livello di vaccinazione che avremo per la popolazione studentesca. Ma se l'obiettivo è tornare a scuola tutti in presenza, è chiaro che dobbiamo completare la compagna di vaccinazione, fino all'immunità di gregge. E lo faremo, anche a costo di ritardare l'apertura dell'anno scolastico, per evitare di avere classi nelle quali magari, non avendo avuto un tasso di immunizzazione sufficiente, abbiamo per metà studenti in presenza e per metà studenti che fanno didattica a distanza. Sarebbe un disastro e dobbiamo evitarlo in maniera assoluta.